Come si sa le cose non vanno affatto bene in Italia. Saremmo quest'anno l'unico paese che non cresce, anzi decresce, nell'ambito europeo e viene da chiedersi se la colpa non stia anche negli italiani, ovvero la colpa non stia anche nei cosiddetti imprenditori italiani, i quali non investono nella propria economia, cioè coloro che hanno le possibilità di investimento vanno ad investire ovunque, tranne in Italia. Forse la situazione cambierebbe se chi può investire investisse in Italia e investisse in idee ed in progetti italiani. Grazie.